E' come se fossi parte della squadra di soccorso! Dici davvero? Sì? Benny, andiamo al porto! E come mai? Spesso le macchine hanno bisogno di essere soccorse e tu potrai aiutarle come un vero membro della squadra di soccorso! Beh, in effetti Ellie mi ha chiamato Roy Junior! Certo! Che meraviglia! D'ora in poi noi saremo la squadra di soccorso! Io sono forte e veloce come voli! E io sono Amber! Io sono Roy! Squadra di soccorso, andiamo al porto! Via! Aiuto! È da! Qualcuno mi aiuti! Qualcosa non va! Che cosa facciamo? State tutti calmi! A quanto pare questa è la nostra prima missione! Scopriamo cos'è successo! Ciao ragazzi! Allora, ti serve aiuto? Sono felice che siate qui! Accidenti, non riesco a muovermi! Potreste per favore contattare la squadra di soccorso? Potremmo! Ma non è necessario! Di che cosa state parlando? Aspetta e vedrai! Ti salviamo noi, Dump! Benny, al lavoro! D'accordo! Che cosa fai, Benny? È meglio se rimuovi il gancio della gru! D'accordo, Dump! Oh no! Sono rimasto incastrato! Che cosa! Che cosa! Oh no! Si sta per sollevare il ponte! Chiamate la squadra di soccorso! Oh, certo! Rodi! Squadra di soccorso, qui è Gin! Ah, ragazzi! Aiutateci, per favore! Che succede? Dump e Benny, sono in pericolo! Cosa? Ditemi subito il problema! Emergenza! Emergenza! Dump e Benny sono intrappolati su un ponte-elevatoio! Fate rapporto al ponte-elevatoio! Ai ordini! ourselves! Cosa? Oh no! Un pa-di! Tom, Benny! Aiutateci, Polly! Roy, dobbiamo fermare quel ponte! D'accordo! Lo hanno fermato! Ellie, tu pensa a Benny! Agli ordini! Polly, è troppo stretto! Non c'è spazio per Benny! Dovremmo aprire di più il ponte! Preparati a recuperarlo! Tieni duro, Roy! Così va bene! Ellie! Carazzo! Vado! Wow! Grazie al cielo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!